Potranno raggiungere le seconde case solo coloro che hanno in Toscana il proprio medico di famiglia o pediatra. Lo stabilisce l'ordinanza firmata venerdì mattina dal presidente Eugenio Gianni per fermare l'esodo di Lombardi e Piemontesi diretti dalle zone rosse nelle case di villeggiatura. Un fenomeno già evidente da giorni in Versilia, confermato dai sindaci ma anche da numerosi agenti immobiliari che hanno visto crescere negli ultimi tempi le richieste di affitti e persino di compravendite dal nord Italia. Se fino a di chiunque poteva venire alla casa al mare, da oggi chi arriva dalle zone rosse e chi ha la residenza o il domicilio nella seconda casa, come di fatto consente il DPCM, dovrà avere anche il requisito essenziale del medico di base in Toscana pena una sanzione. Io ritengo che questa ordinanza sia utile. Chi sta in Toscana come ci sia arrivato, perché ci sia arrivato, quando ci sia arrivato, tutto da precisare può essere soprattutto persone che possono essere già venute nei giorni scorsi, non siamo mica con dogane che possono calcolare qual è stato il flusso di mobilità. Chi sta qua deve avere qua il medico di famiglia e mi sembra sia un'esigenza dettata dall'emergenza sanitaria e quindi chi ha il medico di famiglia che è in Toscana può stare nella sua abitazione che abbia la resilienza o il domicilio in Toscana. Un provvedimento invocato da alcuni sindaci e parlamentari di zona ma che appare tardivo agli occhi di molti dal momento che tanti lombardi o piemontesi sono arrivati nelle 24 ore precedenti l'entrata in vigore del decreto oppure nelle settimane scorse o addirittura approfittando dello smart working o della didattica a distanza non se ne sono mai andati dalla fine dell'estate.